21esima di campionato il San Donato Tavarnele affronta il Sestri Levante. Passano 4 minuti per il calcio piazzato di Frosali che supera la barriera ma non adornato. Al 14esimo ci prova di Vito con il sinistro, palla alta non di molto sopra la traversa. Sestri Levante che mette la testa fuori sporadicamente.